Ciao, sono Angelo di viola focaccia.com Si, Angelo, avete capito bene, viola focaccia.com perché da oggi sarò io ad occuparmi del blog per circa 8 mesi, un anno fino a quando Vittorio non ha completato il suo trasferimento a Doncombe Quello che mi propongo di fare nei prossimi 8-9 mesi adesso vedremo quanto tempo avremo a disposizione è di smontare una teoria che la fretta non è veramente nemica della panificazione potremo fare, potremo vedere come si fa un pane tipo questo qua che in realtà è stato fatto con il lievito naturale in meno di mezz'ora e la focaccia in meno di 20 minuti semplicemente con l'ausilio di qualche polverina chimica e l'ausilio del forno a microonde spero di essere benvenuto ovviamente vi aspetto numerosi come sempre sul blog di Viva la Focaccia e a presto, alla prossima ricetta che sarà proprio quella della focaccia in meno di 20 minuti ciao su Viva la Focaccia.com grazie a tutti